I sindaci del comprensorio agli oppone la parte mantovana scrivono ad ATS Valpadana per chiedere con ancora più forza nuovi centri vaccinali senza costringere la popolazione ad andare a Cremona o Mantova o nel caso migliore a Casal Maggiore per ricevere la propria dose. A seguito della lettera del direttore generale Salvatore Mannino e del direttore sociosanitario Carolina Maffezoni di ATS Valpadana datata 3 aprile 2021 siamo venuti ufficialmente a conoscenza scrivono i sindaci del fatto che il distretto sociosanitario viadanese quasi 47.000 abitanti non risulta essere inserito tra le aree nelle quali sorgeranno i centri vaccinali massivi. Vogliamo ricordare che i comuni di Bozzolo, San Martino dall'Argine, Rivarolo Mantovano e Viadana sono i quattro comuni del Mantovano con più alto indice di contagio. Nelle scorse settimane alcuni sindaci hanno candidato per l'apertura dei poli vaccinali strutture presenti nei vari comuni tra questi il presidio ospedaliero di Bozzolo, la sede Avis di Viadana, il centro ATS di Campitello di Marcaria. Nelle scorse settimane le protezioni civili locali hanno dato anche disponibilità a prestare servizio in caso di necessità. Dal 15 marzo è attiva a Viadana la sede presso gli spazi Avis in via Grazisoncini nella quale nel frattempo sono state vaccinate persone legate al mondo della scuola e del volontariato e si stanno concludendo in questi giorni gli over 80 che non erano ancora stati vaccinati altrove. È stato fondamentale il lavoro dei volontari e del personale medico ed infermieristico. Premesso tutto questo chiediamo, spiegano i sindaci, di avere un polo vaccinale pienamente operativo nel nostro territorio. Al contrario di quanto affermato dai direttori sociosanitari di SST Cremone e Mantova nell'ultima assemblea dei sindaci, ad oggi non è ancora attiva l'equip che dovrebbe provvedere alla vaccinazione a domicilio dei soggetti fragili. Potremmo quantomeno garantire una sede in loco per queste categorie a rischio e per altre categorie come quelle lavorative inerenti alle aziende del territorio, un'esigenza peraltro condivisa anche dal dottor Raffaello Stradoni di SST Mantova.